Ecco qui siamo sullo svincolo della superstrada che porta a Lauratova e c'è anche poi il passaggio per andare a Puerto della Cruz che vediamo da quest'altra parte in fondo, si trovano a circa 3-4 km da qui. Qui è un punto panoramico, lo vediamo proprio qui di sopra la Lauratova e che ora andiamo a visitare. La Lauratova è famosa per i suoi giardini molto belli che adesso andremo a vedere, su in alto vediamo il Teide. Ecco qui siamo allo stadio. Ecco siamo in prossimità del bellissimo parco. Ecco qui abbiamo il centro visitatori del Parco Nazionale del Teide. Bello. Butto. Andiamo. Ecco qui piano. AbbiamoVE Però e anche altre cose. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo i caratteristici balconi canari. Grazie. Grazie a tutti. Qui abbiamo un bellissimo presepio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nostro video con questi splendidi e famosi giardini che rendono famosa la oratova come località in tutta l'isola. Vediamo le splendide terrazze. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.